Allora, Tommaso Barbetta, prima dicevo a Marini, siamo arrivati all'inferno e siamo tornati indietro. Insomma, che partita è stata? Questo, insomma, per noi non è un pareggio, è una vittoria. Una vittoria di cuore e sacrificio, pur non avendo espresso il nostro gioco, anche per meriti del San Cesario, che è una grande squadra e ci darà del filo a torcere fino all'ultimo. Niente, abbiamo fatto un primo tempo brutto, il secondo poi alla fine, dopo aver preso il terzo gol, abbiamo reagito alla grande, potevamo prendere anche il quarto, ma abbiamo dato tutto, ci siamo sacrificati molto e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria. 3-3, una partita difficilissima. Senti, ma tu parli di pareggio, di vittoria, insomma, che vale quanto una vittoria, io direi che i meriti però, stavolta, lasciamelo dire, per il 90% sono i tuoi, perché comunque almeno in 4-5 occasioni San Cesario poteva continuare a fare male e tu, se non ero due volte con i piedi, due volte in tuffo, hai evitato che prima taglia roll, insomma, diverse parate che ci hanno permesso comunque di rimanere, io dire, mantenere viva una partita perché la 0-3 è difficile, però alla fine sono state fondamentali. Sì, però insomma non sono contento perché il terzo gol c'è stata incomprensione tra me e Giuseppe, non è stato molto bello a vedersi, poi alla fine diciamo che mi sono riscattato, però anche l'altra settimana sul gol a San Nicolò ero molto arrabbiato, ho lavorato molto questa settimana duramente e alla fine, insomma, devo migliorare ancora molto sotto il punto di vista della concentrazione e alla fine, come ti ho detto prima, ho fatto il mio dovere. Questo San Cesario ci darà fino alla torcere fino alla fine perché si vede che è davvero una gran bella squadra. Sì, anche perché secondo me non ha nulla da perdere, quindi anche se viene a giocare qui a San Benedetto, se va a giocare a Ancona, va a imporre il proprio gioco, una squadra offensiva, mi è piaciuta molto, devo dire che mi è piaciuta molto, ha davvero dei giocatori molto importanti e ci darà del filo da torcere fino all'ultimo, ripeto. I risultati ci hanno anche dato una mano oggi perché Termoli ha pareggiato, la Maceratese ha perso, Ancona non ha giocato e ora noi pensiamo a domenica, all'Angolana, un'altra partita difficilissima. Si cambia completamente l'atmosfera, si passa da 5.000 spettatori e un campo come Riva delle Palme a un campo come quello dell'Angolana, non so se tu lo conosci, un po' più piccolino e sicuramente con meno spettatori, insomma sicuramente si torna ecco in un campo dove la Samb non gioca da diversi turni, visto che abbiamo fatto tante partite in casa, poi a Teramo comunque in uno stadio nuovo che è il Piano Daccio e adesso Riva delle Palme un campo che può riservare delle insidie anche perché la Samb perderà pazzi in Napolano. Sì, anche perché contro di noi tutte danno l'anima e ora il campionato si vincerà con le squadre che si vogliono salvare, bisogna fare i tre punti assolutamente, tutte le partite sono difficili, quella di domenica ma tutte lo sono, noi andremo là, faremo il nostro gioco e sicuramente se faremo il nostro gioco possiamo portare a casa i tre punti che ci servono. Grazie